Aldo Romeo Luigi Moro nasce a Maglie, in provincia di Lecce, il 23 settembre del 1916. Suo padre è un ispettore scolastico e sua madre un insegnante elementare di Cosenza. Dopo aver conseguito la maturità classica, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università di Bari, dove nel 1941 ottiene la docenza in filosofia del diritto e di politica coloniale. Entra a far parte della Federazione Universitaria Cattolica Italiana di cui è presidente dal 1939 al 1943 e dal 1945 al 1946 dirige il Movimento Laureati dell'Azione Cattolica. Nel 1946 viene eletto all'Assemblea Costituente e diventa così uno dei 75 incaricati di redigere il testo costituzionale. Viene eletto alla Camera per la prima volta nell'aprile del 1948 e fino al 1959 ricopre importanti incarichi governativi, quali sottosegretario agli esteri, ministro di grazia e giustizia, ministro della pubblica istruzione. Nel 1959 diventa segretario della democrazia cristiana, partito che lui stesso ha contribuito a fondare. Nel 1963 diventa per la prima volta presidente del Consiglio, di un governo che vede la partecipazione dei socialisti. Nel 1974 riesce a costituire il suo quarto governo, ma alle elezioni amministrative dell'anno successivo il Partito Comunista Italiano ottiene un grande consenso, riportando al centro del dibattito politico italiano la strategia che Moro sostiene da tempo, cioè la necessità di coinvolgere il Partito Comunista Italiano nel governo del paese, eventualità cui si oppone con forza l'estrema sinistra. Il 16 marzo del 1978, proprio il giorno del primo dibattito sulla fiducia al nuovo governo Andreotti IV, al quale avrebbe partecipato anche il Partito Comunista Italiano, un gruppo di appartenenti alle Brigate Rosse uccide in Via Fani, a Roma, i cinque poliziotti della scorta di Aldo Moro e rapisce lo statista. Durante i 55 giorni della sua prigionia, a livello governativo si confrontano due linee di condotta. Quella del Partito Comunista Italiano e della democrazia cristiana, che rifiutano ogni trattativa per non dare riconoscimento alle Brigate Rosse come forza politica, e quella del Partito Socialista Italiano, che al contrario intende invece trattare, come chiedeva d'altronde anche Moro nelle lettere fatte per venire dalla sua prigione ad alcuni uomini politici. Aldo Moro viene assassinato dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978, dopo essere stato rinchiuso nel covo di Via Camillo Montalcini per quasi due mesi. Lo fanno salire dentro il portabagagli di una Renault 4 rossa rubata e gli dicono di sdraiarsi e coprirsi con una coperta, perché devono trasportarlo in un nascondiglio più sicuro. Poi gli sparano dieci colpi. Aveva 61 anni. Il corpo di Aldo Moro viene fatto ritrovare il giorno stesso a Roma in Via Caetani, simbolicamente a metà strada tra la sede della democrazia cristiana e quella del Partito Comunista Italiano. Alla cerimonia pubblica tenuta da Papa Paolo VI, amico dello statista, non partecipa la famiglia, che ritiene che lo Stato italiano poco o nulla abbia fatto per salvare la vita di Moro. Molto bene, prima di passare alle citazioni, vi ricordo che se volete sostenere il mio canale potete farlo dando un'occhiata ai miei libri che trovate su Amazon. Vi lascio un link in descrizione. E per quanto riguarda questa richiesta della pena, di come debba essere la pena, un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua. L'ergastolo, che privo com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte. Il decentramento nella gestione degli interessi comuni, la determinazione di centri più vicini e controllabili, la fiducia riposta nei direttamente interessati, sono altrettanti strumenti dell'avvicinamento del potere agli amministrati e dell'umanizzazione di esso come garanzia del suo retto fine. Il partito vuole aderire alla realtà, per orientarla e plasmarla secondo la sua intuizione, alla luce dei suoi ideali umani. Perché un partito, e soprattutto un partito come il nostro, è un punto di passaggio obbligato dalla società allo Stato, dal particolare all'universale, dal fatto alla legge. Esso è chiamato alla comprensione della realtà, ma anche a dare un giudizio su di essa e un principio di orientamento. Esso parte da posizioni individuali, ma già le amalgama, ma già opera una sintesi nella quale comincia a esistere lo Stato. La razza è l'elemento biologico che, creando particolari affinità, condiziona l'individuazione del settore particolare della esperienza sociale. che è il primo elemento discriminativo delle particolarità dello Stato. Lo Stato democratico, lo Stato del valore umano, lo Stato fondato sul prestigio di ogni uomo e che garantisce il prestigio di ogni uomo, è uno Stato nel quale ogni azione è sottratta all'arbitrio e alla prepotenza, in cui ogni sfera di interesse e di potere obbedisce a una rigida delimitazione di giustizia. È uno Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura e il limite della legge. E la legge, come disposizione generale, è un atto di chiarezza, è un'assunzione di responsabilità, è un impegno generale e uguale. Nessuno è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa e nel Mediterraneo, poiché l'Europa intera è nel Mediterraneo. Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Parliamo, giustamente preoccupati, di distacco tra società civile e società politica e riscontriamo una certa crisi dei partiti, una loro minore autorità, una meno spiccata attitudine a risolvere, su basi di comprensione, di consenso e di fiducia, i problemi della vita nazionale. Ma a fondamento di questa insufficiente presenza dei partiti non c'è forse la incapacità di utilizzare anche per noi classe politica, la coscienza critica e la forza di volontà della base democratica? Ecco, con queste parole si rivolge a Giulio Andreotti. Non le basterà la cortesia diplomatica del presidente Carter, che le dà, si vede che se ne intende poco, tutti i successi del trentennio democristiano, per passare alla storia. Passerà alla triste cronaca, soprattutto ora che le si addice. Vi è forse, nel tener duro contro di me, un'indicazione americana e tedesca? Il rinvio è il momento significativo di ogni disegno riformatore. Un partito che non si rinnovi con le cose che cambiano, che non sappia collocare ed amalgamare nella sua esperienza il nuovo che si annuncia, il compito ogni giorno diverso, viene prima o poi travolto dagli avvenimenti. Viene tagliato fuori dal ritmo veloce delle cose che non ha saputo capire e dalle quali non ha saputo corrispondere. Baccia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce sarebbe bellissimo. Bene, questo è tutto. Una storia tragica che offre interessantissimi spunti di riflessione. Come sempre iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi di Non puoi non saperlo e se volete sostenerlo il canale potete dare un'occhiata ai miei libri che trovate su Amazon. Vi lascio un link in descrizione. Ciao a tutti e alla prossima. Grazie a tutti.